There is a house in New Orleans Ciao, con passare degli anni e del tempo purtroppo i particolari di alcuni episodi finiscono col diventare radefatti nella nostra mente per questo qualche anno fa ho deciso di scrivere i momenti salienti della mia storia con Peppino Impastato ma anche quella da musicista e quella nel settore delle radio questo è recentemente diventato un libro in questo libro oltre ai momenti importanti della storia di Peppino Impastato ho voluto anche ricordare alcuni momenti che nessuno conosce che sono quelli trascorsi con un amico sono quelli che a volte sono anche comici o che ci fanno sorridere uno di questi momenti voglio condividerlo con voi Conobbi Peppino Impastato tra il 1972 e il 73 perché è compagno di scuola di suo cugino Francesco con il quale condivideva la passione per la musica con Peppino trovai immediatamente sintonia per la comunanza ideologica seppur facessimo parte di due gruppi politici vicini ma diversi in ogni caso tutti e tre che guardavamo alla rivoluzione per cambiare la società pensavamo che l'informazione della cultura potessero essere gli strumenti ideali per coinvolgere la gente Ancora prima che iniziasse la storia di Peppino che oggi tutti conoscono pur essendo un palermitano passavo molto tempo a Cinisi per suonare con Francesco Riaggiungevo il paese a volte percorrendo i circa 46 chilometri via statale con il mio ciclomotore attraversando le campagne sfidando la pioggia e il freddo altri arrivando in treno alla stazione di Terrasini Cinisi dove trovavo Francesco ad aspettarmi Quando invece si dovevano trasportare gli strumenti musicali arrivava la disponibilità di tanti compagni che venivano in macchina a prenderci a Palermo Per le grosse occasioni portavo anche il pianoforte acustico Allora venivano con la Lapa, nome siciliano dato alla moto Ape A proposito dei trasporti mi sovviene un episodio Il più comico che ricordi di Peppino e che ancora mi fa sorridere In Sicilia c'è un'usanza ormai quasi scomparsa E' quella di dare una sorta di soprannome alle persone Si chiama angiuria Letteralmente l'ingiuria Ma l'intento non è quasi mai dispregiativo perché ha spesso dentro l'ironia e l'animo poetico della nostra gente Oggi potremmo paragonarla al nickname ma in tal caso sarebbe un'identità scelta da noi e che riguarderebbe solo una persona Anciuria era invece affibbiata da altri e spesso coinvolgeva l'intera famiglia tramandandosi anche ai figli e ai nipoti Giovanni senza capelli era Giovanni Utignuso suo figlio? U figli di Giovanni Utignuso Nei piccoli paesi se cerchi una persona e domandi magari all'anziano seduto in piazza Scusi, sa dove abita un certo... Può capitare di sentirsi rispondere Mai sentita nominare Sostituendo però nome e cognome con l'anciuria potremmo vedere illuminare il volto della persona Sentendoci rispondere Ah, ora sì La seconda a destra Giusto per non perdere l'orientamento e restare in argomento Anche i noti mafiosi hanno la loro unciuria U papa era Michele Greco U curto, totò Reina Cuccio di Tacca, Luciano Ligio Nel film I cento passi ricorderete che Anciure di Taino Badalamenti era U battaglio il collare di legno che nelle mucche sorregge il campanaccio Senza scomodare ancora i boss Ammazza Mugheri era il nomignolo di uno che sposò sette mogli tutte morte Una famiglia con un po' di puzza al naso e di distacco nei confronti dei propri paesani era chiamata Civiletti Un medico che chiamato dai pazienti rispondeva sempre Ora vengo non andandoci mai diventò Don Jacopo Oravegno Nel nostro gruppo musicale il tecnico Luci era elettrico mentre Anciure del flautista con un naso voluminoso era Naso Quando i compagni di Cini si venivano a prenderci a Palermo per trasportare gli strumenti per fare velocemente tutti i presenti si davano da fare per caricare ogni cosa Una di queste volte Peppino prese un lenzuolo caduto dalla cassa della batteria chiedendomi Danilo questo pure? Risposi No, quello è il lenzuolo di naso Di colpo Peppino sbalzò lo lasciò cadere schifato Scoppiamo tutti a ridere perché si trattava di un lenzuolo che il flautista naso utilizzava per coprire le sue attrezzature e che durante le prove mettevamo dentro la cassa della batteria per sordinarla Era stata ovviamente una reazione istintiva perché non poteva certo trattarsi di un lenzuolone dove soffiarsi il naso Quella scena forse indescrivibile perché fatta di movenze corporee ed espressioni faccela di Peppino ancora la rivedo rivevendo anche le risate di allora Grazie a tutti